Tom, io devo andare. No, no, Tommy, non tentare di fermarmi, devo assolutamente andare. Veramente qui non c'è nessuno che sta tentando di fermarti, vorrei solo capire dov'è che vorresti... Saluta Beyahietta da parte mia, chissà, forse un giorno ci rincontreremo. Ars, aspetta! Guarda che Pokémon Go hanno ancora uscito in Italia. Porca Pokémon! Go! 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 Ciao a tutti, siamo la CP. No, mi hai sei secondi e poi ti taglio. Ok, 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 iscrivetevi al nostro canale e se qualcuno avesse acquistato il guantino sinistro ci contatti! Oh!